Mostre in prestito Mostre sui 10 anni di euro, sui mezzi di locomozione, sulla storia in satira, sull'immagine della donna e molto altro. Gran parte del repertorio del Consiglio regionale può far vivere le sale degli enti del territorio piemontese. Il prestito è gratuito e sufficiente a presentare una richiesta scritta. Sul sito internet, nella sezione Mostre del Consiglio, si trova il catalogo con le descrizioni delle esposizioni e il contratto di comodato gratuito da compilare. Fino al 18 settembre, 24 comuni montane del Piemonte sono attraversati da una carovana di attori e musicisti per raccontare storie di guerra e liberazione. La rassegna estiva Voci dei Luoghi è promossa dal Consiglio regionale Comitato Resistenza e Costituzione con l'UNCE in Piemonte e il Consiglio provinciale di Torino. Ad agosto date principali a Villa Arpellice e il 3, con la storia di Willy Gervis e il 17 a Formazza in Valdossola. Sul sito il calendario completo. Vittorio Marchis, torinese, fotografo. È dedicata a Vittorio Marchis, torinese, fotografo e escursionista, 100 anni fa, la mostra ospitata alla Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino. La rassegna, fino al 28 agosto, propone una serie di scatti fotografici realizzati da Marchis che coniugò la passione per la montagna con le tecniche della ripresa fotografica, sperimentando agli inizi del Novecento la fotografia a colori. Immagini della letteratura piemontese. Fino al 30 agosto all'URP del Consiglio regionale del Piemonte, Via Arsenale 14, è visitabile la mostra Letteratura piemontese attraverso le immagini, a cura della sezione arti visive del CRAL della Regione. La rassegna è composta da 33 dipinti e due sculture ispirate alle opere narrative e poetiche di autori piemontesi, da Cesare Pavese ad Alessandro Baricco. Ciac Piemonte, la commedia all'italiana. Si può scaricare in formato PDF dal sito www.cr.piemonte.it nella sezione pubblicazioni il fascicolo Ciac Piemonte, la commedia all'italiana, realizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con Ajace. La pubblicazione presenta una selezione di 100 titoli di commedie girate in Piemonte, terra di nascita o di adozione di numerosi grandi talenti della cinematografia italiana.